Parliamo di Wendell & Wild. Ho avuto la possibilità di vedere il film qualche giorno fa in anteprima grazie a Netflix, così da far uscire questo video proprio all'uscita del prodotto sulla piattaforma. Come posso far iniziare il video se non dicendo che avevo tantissimo interesse riguardo questo prodotto, perché i prodotti, i lavori precedenti di Harry Selick in stop motion, quindi Nightmare Before Christmas e Coraline La Porta Magica, mi sono piaciuti tantissimo, anzi Coraline è direttamente uno dei miei film preferiti in assoluto. Quindi avevo un certo interesse e soprattutto una grandissima curiosità nei riguardi di Wendell & Wild, ma questo fin da quando è stato annunciato all'evento To Doom, se non sbaglio, forse era anche la Geeked Week, non ricordo, uno dei due eventi di Netflix. Anche con i diversi trailer l'interesse andava sempre più salendo, ma sfortunatamente dopo averlo visto anche due volte posso dire che non mi ha convinto al 100%. Prima di iniziare con la recensione, come sempre però vi invito a seguirmi su tutti gli altri miei social, i link li trovate nella descrizione, quindi Instagram, Twitter e TikTok, tutto nella descrizione assieme al link di Pampling. Sul sito potete trovare tantissimi design, da t-shirt, tazze, poster, calze e tanto altro, tutto a tema nerd. E se al momento del pagamento inserirete il codice ElPensiero4 dopo aver inserito un paio di calze a scelta nel carrello, queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Un grazie in anticipo se deciderete di supportare il canale in questo modo, se invece volete supportarlo in modo gratuito basta un like, una condivisione, magari un commento e se vi trovate qui per la primissima volta anche un'iscrizione. Perché Wendell & Wilde non mi ha fatto esattamente impazzire. Quella di oggi sarà una recensione senza spoiler, totalmente senza spoiler, quindi potete stare tranquilli, non ci sarà nemmeno la parte spoiler finale. Però vi anticipo che comunque parlerò tranquillamente senza problemi di quel che si vede nel trailer, quindi se non avete neanche visto il trailer, non volete vederlo per evitarvi spoiler totalmente, magari questo non è esattamente il video per voi. Parto però parlandone un po' generalmente. Questo Wendell & Wilde l'ho trovato comunque allo stesso livello qualitativo della parte tecnica, quindi la stop motion, lo stop motion, il design dei personaggi che qui in realtà è un po' più strano del solito, la fotografia, la regia, come si presenta il film in generale, è comunque di una certa qualità. C'è sempre Henry Selick dietro. E anche Jordan Peele sotto veste di produttore e di voce di Wilde, ma penso che qualcosina l'abbia fatto anche lui. E allora se qualitativamente è tutto come gli altri film di Selick, come The Nightmare Before Christmas o Corre nella Porta Magica, perché? Dove nasce il problema? Per quanto mi riguarda nasce nella storia. Una storia tanto, tanto semplice, però aveva davvero il potenziale per essere qualcosa di stupendo. Partendo proprio dall'incipit, la metafora, diciamo, del film, i demoni di una persona, che naturalmente in questo film sono effettivamente dei demoni, proprio figure demoniache, ma avete capito comunque di che demoni si parla, soprattutto dopo aver visto l'inizio del film. La storia aveva davvero il potenziale di diventare qualcosa di molto profondo, molto significativo, ma si perde molto di più sulle scene dedicate a un certo pubblico molto infantile. Anche se in generale il film, tra gli altri, è forse quello un po' più adulto per alcuni temi trattati. In realtà anche per qualche gag, qualche uscita, qualche battuta dei personaggi, ecco, c'è qualcosa del genere. Però si concentrano davvero su un certo tipo di racconto, prendono una strada totalmente diversa da quella che aveva voluto. I personaggi sono anche interessanti, ma lo sarebbero stati ancora di più se ci fosse stata una caratterizzazione maggiore, magari la possibilità per lo spettatore di empatizzare con alcune cose di quel personaggio. Per quanto riguarda un certo personaggio, non voglio dire altro, hanno inserito una caratteristica che però viene un po' buttata lì. Ci sono quattro o tre scene che ne fanno riferimento, ma magari nemmeno chi è attentissimo riesce a cogliere questa importante caratteristica del personaggio. Essendo comunque una cosa molto importante, soprattutto in questo periodo, ed essendo appunto inserita in un film indirizzato per lo più a un pubblico di bambini, di ragazzi, avrei preferito che entrassero più nella faccenda, spiegando anche meglio. E invece no, viene un po' lasciata lì a galla. Ripeto che la storia è molto molto semplice, sfortunatamente ha anche un ritmo abbastanza discontinuo, perché abbiamo sì l'incipit, succede il tutto, ci viene presentata la protagonista, appunto Kat, che tra tutti i personaggi ha forse il design più normale, quello che mi è piaciuto di più. Ci viene in qualche modo presentata la sua storia, poi entriamo effettivamente nelle vicende, ci vengono presentati anche gli altri personaggi, quelli più importanti per lo più, ci viene presentato anche il movente, tutto quello che fa partire tutto il casino al centro della storia, e poi si arriva molto velocemente al finale, passando comunque ovviamente per la parte dello sviluppo, della caratterizzazione maggiore per alcuni personaggi, alcune vicende, ma non viene presentato nel modo che avrei voluto. E questo è anche uno di quei film che ha più finali, perché sinceramente il film poteva già finire a un certo punto, però hanno deciso di continuare, ma effettivamente c'era ancora qualcosa da chiudere, qualcosa di molto importante, ma il fatto che mentalmente per me fosse già finito a un certo punto mi fa pensare che la seconda parte, la seconda cosa ancora da risolvere non era esattamente un qualcosa di mio interesse, però naturalmente è molto meglio che hanno deciso di chiudere quella trama, che forse in realtà, anzi no, non senza forse, è la trama centrale del film, perché molto probabilmente mi sarei arrabbiato di più se non avessero chiuso questa cosa. Il film è indicato come un horror comedy e comunque sì, c'è qualcosina di horror non eccessivo, perché, ripeto, è quello il pubblico a cui è indirizzato quello di bambini e ragazzi, quindi magari mettere qualcosa, spingere sull'acceleratore per la parte horror è un po' pericoloso, perché un bambino non ti guarda ovviamente tutto il film se si spaventa alla prima scena, però qualcosina di interessante c'è, ci sono anche tanti riferimenti al cinema horror, sia suggeriti dalla regia ma anche proprio citati dai personaggi. Per quanto riguarda invece la comedy, ce n'è poca, non ce n'è tantissima, perché comunque l'anima del film è molto molto triste, non è che succedano cose gioiose, nemmeno una volta in realtà, se non appunto per qualcosina sul finale. Però comunque per qualche personaggio che fa da comedy relief, come in realtà proprio Wendell e Wilde, ho sorriso, almeno per quanto mi riguarda. C'è comunque una comicità molto slapstick, quindi indirizzata, ripeto ancora una volta, a un pubblico che si mette a ridere se un personaggio si fa male dopo essere caduto dal tapirulan, e quindi la maggior parte delle gag è di quel tipo, però nessun altro problema, diciamo, posso accettarlo. Un grandissimo pro è la musica del film, mi è piaciuta davvero tanto, quindi un applauso, uno solo però, quindi basta. Ma ripeto, sfortunatamente la storia, soprattutto il ritmo in realtà, perché la storia, se vogliamo fare i puntiliosi, è davvero qualcosa di interessante. Tantissime cose interessanti che non vengono però messe giù nel modo giusto, a causa appunto del ritmo totalmente sbilanciato. Il film dura un'ora e cinquanta, se non sbaglio un'ora e quarantacinque, non dura tantissimo, per essere un film d'animazione in stop motion è comunque una durata abbastanza accettabile, però alcune cose, soprattutto nel primo rewatch, quindi la seconda visione, mi sono pesate, cioè sono durate davvero tanto. Nonostante questo, avrei preferito se avessero aggiunto un 5-10 minuti sul finale, per spiegare altre cose, più che spiegare, avere una pausa, un momento di riposo, perché succedono tutte cose una dopo l'altra e davvero il ritmo, soprattutto nella parte finale, è frenetico, e quindi 5-10 minuti in più sulla conclusione non sarebbero stati male. Tirando le somme quindi per Wendell e Wilde, ripeto, a livello qualitativo, stop motion, animazione, regia, colori, perché i colori sono stupendi, tutta questa parte tecnica, anche la musica, metto all'interno anche la musica, davvero ben realizzata. Poi arriva la parte della trama, della storia, dello script, e lì arrivano i problemi. Io vi consiglio di vederlo, soprattutto se vi sono piaciuti gli altri film di Selick, non solo The Nightmare Before Christmas e Coraline, ma anche quelli precedenti a questi, però per quanto mi riguarda Wendell e Wilde non sono neanche una minima parte di The Nightmare Before Christmas e soprattutto Coraline. E la cosa che mi dispiace di più non è che non sia allo stesso livello di quegli altri film, ma che sarebbe tranquillamente potuto esserlo. Bastava concentrarsi su alcune cose a discapito di altre. Ma ragazzi, il film lo trovate da adesso, proprio nel momento in cui è uscita questa recensione, è uscito anche il film su Netflix. Ripeto, io vi consiglio di vederlo e magari dopo che l'avete visto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, tanto potete scrivere quello che volete, se volete fare spoiler, tranquilli, potete farlo, ma anticipate il vostro messaggio dalla dicitura spoiler, allerta spoiler, poi lasciate qualche spazio e scrivete il commento per non rovinare la visione a chi ancora il film non l'ha visto. Vi ricordo che in descrizione trovate i link importanti dei miei sociali, il link di Pampling, Codice Il Pensiero 4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!